Allora, un sacerdote i vostri cenni attende Ma, ma un'ultima grazia io vi richiedo Se posso Io lascio al mando una persona cara Consentite che io le scrivam tol matto L'unico resto di mia ricchezza è questa nera Se promettete di consegnarle il mio ultimo addio Esso è potro Scrivete 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.